Il tablet, il laptop e il porto dell'ultima generazione, parlando di voi, ma voi non avete allunghi, voi non avete allunghi. Non ho mai avuto alcun rinforzo a spese per la ventina, che ho speso per anni, per fare 60 milioni al giorno, per andare e tornare, molti dei dollari di bottino non fanno perché sono per dollari. Non ho alcun riconoscimento per ancora di raggiungeremo fatti a mia spese, in Italia e all'estero, per essere un insegnante abitaci. E non ho neanche il diritto di ammalarmi, di avere l'influenza, o per tutti i familiari in Napoli, perché di meno di lui è una parte del giambino, odono, che non c'erano stipezio, che riceve. Il contesto però è una cosa che non potete togliere, è una grande dignità e il rispetto di quelli che lavorano con me e la scuola siciliana. Un seguito, capisca? E' tutto questo? Probabilmente devi fare winere, non posso...